Tu vuoi sapere il nome, il cognome? Mariangela Barbanette Giuseppe Schillaci L'età e la professione 34 anni 44 anni Sceneggiatrice e documentarista Regista Luca Bellino, 34 anni, regista Agostino Ferrente, 41 anni E' una professione di sperdo energia Leonardo Di Costanzo, 1958 Regista Rifaccio Monica Ripetto, 47 anni, regista Sergio Basso, 37 anni, regista Mario Balsamo, 50 anni, documentarista Pietro Balla, 56 anni, faccio l'autore e regista Lucaico Ciao Parco Bertozzi, 49 anni, filmiker Riccardo Biadane, 38 anni, autore di cinema Felice D'Agostino, 33 anni, disoccupato